Arriva in anticipo con una cortesia squisita, vestito con un completo color crema, capelli, baffi e barba prezzolati e l'allure di un gentleman d'altri tempi. Quando apre bocca la sua voce ha una pigra morbidezza e le parole staccate l'una dall'altro sono la conferma che John Malkovich, prima di parlare, ci pensa al suo due volte. Lei ha molte corde al suo arco, quale preferisce dei suoi numerosi mestieri, l'attore, il produttore, il regista? Tutte cose che non si possono comparare, risponde Malkovich, alcuni mi esercisti suonano più strumenti, diciamo che il teatro e il cinema sono cugini, ma non mi spungerei più in là con le parentele. Cosa la trae del mestiere dell'attore? Dipende da cosa sta interpretando e dove, personalmente amo recitare perché mi permette di vivere molte più vite, mentre da quello che mi risulta ne abbiamo una sola. Grazie. Grazie